ben trovati con l'almanacco di barba nera dal 1762 martedì 17 luglio si festeggia sant'alessio il nome ha un'etimologia di probabile derivazione asiatica e trae dal greco alexein termine che vuol dire proteggere al significato di difensore dice il proverbio avaro agricoltore non fu mai ricco sono nati il 17 luglio donald sutherland camilla parker balls angela merkel il 17 luglio del 1975 nell'ambito del progetto apollo soyuz una navetta polo americana e una soyuz sovietica si agganciano in orbita segnando il primo aggancio tra e velivoli spaziali di due nazioni differenti nel 1984 papa giovanni paolo secondo infrange allegramente il protocollo con la complicità del presidente della repubblica sandro pertini alle pendici del mondo ad amello in trentino per la prima volta nella storia un papa in fila gli sci infine il 17 luglio del 1902 l'americano willis cardier elabora il principio del primo sistema di condizionamento dell'aria che si fonda non solo sul raffreddamento ma anche sul controllo dell'umidità e sulla depurazione croppotkin ha detto l'idea può sonnecchiare un momento se lei ti impedisce dimostrarsi alla luce può minare il terreno ma per accompagnare ben presto più vigorosa di prima grazie a tutti